Però secondo me un politico ogni tanto deve anche dire la verità. Io ci rinuncio. Ma cosa fa? Ma non mi abbandoni! Ma lei non vuol capire cosa c'entra la verità con la realtà. Perché un politico dovrebbe voler dire la verità. I politici non vogliono dire la verità. Ma non sono i politici, è la gente. La gente non vuol sentirsi dire la verità. La gente non vuol sentirsi dire che deve consumare di meno, che deve cambiare abitudini. La gente vuol sentirsi dire che se c'è da punire qualcuno, siano puniti gli altri. Che se c'è da penalizzare qualcuno, siano gli altri. Ma lei se l'immagina se veramente un politico dicesse quello che pensa dei suoi elettori? Ma adesso basta, veramente basta. Con questa politica dello slogan e della propaganda. Siamo sinceri. Se io avessi una soluzione, non mi cercherei uno stipendio in Parlamento. Se io avessi delle soluzioni, non sarei nemmeno umano perché non esiste un politico che abbia una soluzione che mette d'accordo tutti. E se io credessi nella coscienza della gente, non andrei in giro in cerca di ultra e di tifosi come voi. Diciamo le cose come stanno. Per me, fare il politico è solo la risoluzione dei miei problemi. Ho uno stipendio, una pensione. Ho la visibilità che serve in un paese ipocrita per essere veramente qualcuno. Per avere privilegio nei confronti con le autorità. Per ottenere tutti quei favori che servono in un paese corrotto. Per avere ciò che ci spetta di diritto. Un'infrastruttura, un servizio. Quello che serve, insomma, per condurre una vita senza stenti. E anche voi, se davvero foste convinti di essere capaci di cambiare la vostra vita, non andreste in piazza a sentirvi dire quello che volete sentirvi dire. Programmi consolatori, speranze senza copertura, accanimento ottimistico, offesa degli avversari. Io non posso dirvi che se volete un paese più onesto dovete smettere di rubare. Non posso dirvi che se volete un paese più civile dovete cominciare a rispettare le persone e non gli avatar, le persone che vi stanno vicino, vostra moglie, vostro marito, i vostri figli. Ma anche quelli che vi stanno sulle balle. Io non posso dirvi che se volete un paese meno povero dovete smetterla con questa ossessione del consumo. Dovete volere meno outlet, meno villaggi commerciali, meno multisala. Non posso dirvi che in questo mondo stiamo rubando qualcosa a qualcuno e dobbiamo cominciare a rinunciare a qualcosa. Non siete capaci di rinunciare. Non sapete smettere di fumare, smettere di bere. Non sapete rinunciare a portare i tacchi alti, a tingervi i capelli. Non sapete accettare quello che siete. Volete che vi dica che siete diversi? Che i migliori in questo paese siamo noi. E allora ve lo dico. Per continuare a essere quello che sono, per non cambiare a mia volta, ve lo dico. I migliori in questo paese siamo noi! L'inverno del nostro scontento si è trasformato in estate piena! Grazie! 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 Grazie!